Musica Ben trovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Monza. Ecco le principali notizie di questa giornata. Partiamo con la cronaca. La cocaina non era di buona qualità, così ha cercato di riavere i soldi indietro, minacciando lo spacciatore. Ma lui ha denunciato il suo cliente. I carabinieri hanno arrestato un 55enne di Giussano. E poi l'estate, perché è stato presentato il programma di eventi promosso dal Comune per animare l'estate monzese. Tante le iniziative, fra musica, cultura, tradizione e intrattenimento. No dell'amministrazione, però, ai fuochi d'artificio. C'è spazio anche per lo sport. Continua il momento d'oro dello sport monzese con la squadra biancorossa di pallanuoto, che si gioca una storica promozione in A2. Mercoledì gara 1 dello spareggio contro Marina di Carrara. Ma noi vediamo tutto questo e molto altro nei nostri servizi. La cocaina non era di buona qualità. Così ha cercato di riavere i soldi indietro. Prima con le buone, poi con le cattive. Tanto che lo spacciatore è stato costretto a denunciarlo. I carabinieri hanno arrestato un 55enne per tentata estorsione. L'uomo di origini comasche si è recato, come in tante altre occasioni, a Luisago per acquistare la cocaina da un noto pusher 43enne, anche lui di Como, con alle spalle una lunghissima lista di precedenti penali in materia di stupefacenti, tra i quali una condanna per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Il 55enne, residente a Grandate, ma domiciliato a Giussano, anche lui pluri pregiudicato per spaccio e fino a ieri affidato in prova ai servizi sociali, ha acquistato 5 dosi di cocaina pagando 250 euro, ma una volta tornato a casa, si è reso conto che non era di qualità. E così il 55enne ha provato a riavere i soldi indietro, ma lo spacciatore non gli ha concesso il diritto di recesso. Allora, per provare a riavere il suo denaro, ha cominciato a minacciarlo di morte e di fare del male ai suoi familiari. Le intimidazioni sono fatte sempre più pesanti, si sono ripetute nei giorni successivi, anche tramite un intermediario, un 64enne di Turate, anche gli con una lunga sfilza di precedenti. Lo sai, è molto arrabbiato, ormai il tempo è scaduto, hai solo lunedì e poi ti verranno a prendere a casa. A quel punto il 43enne ha chiesto aiuto ai carabinieri. Dopo gli accertamenti del caso, i militari dell'arma hanno denunciato il 64enne e il 55enne all'autorità giudiziaria per tentate estorsioni in concorso, chiedendo nei confronti di quest'ultimo l'aggravamento della misura alternativa alla detenzione. È stato di nuovo arrestato, continuerà a scontare la pena nel carcere di Monza. Un'estate all'insegna della musica, della cultura, della tradizione e dell'intrattenimento. Ricco il programma di eventi organizzato dal comune di Monza, il Monza Live Sound Festival con 30 band amatoriali che riempiranno di note le vie della città, la Sagra di San Gerardo, la festa patronale di San Giovanni, con due spettacoli e artisti di strada. Poi la rievocazione storica, domenica 25 giugno, e ancora la cena in bianco, la cena sotto le stelle e lo street food ai boschetti reali, per non parlare del Monza Milano Motor Show, del cinema sotto le stelle, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Un giugno ricchissimo, davvero costellato di iniziative a vario titolo, dalla musica, la tradizionale rievocazione storica, che quest'anno sarà il 25 giugno, ha delle iniziative attorno a San Giovanni, e su questo in particolare abbiamo deciso di ritornare sulla tematica del fuoco, che già nel rito pagano del solstizio del sole si ritrovava, ed è poi stata assorbita dal rito cattolico cristiano, e noi lo riportiamo in piazza con degli spettacoli di artisti di strada, che utilizzano proprio l'elemento del fuoco come elemento espressivo. E poi si proseguirà, giugno appunto è veramente molto ricco come mese, si proseguirà però a luglio con un inedito, accanto al ormai ricorrente non solo clown, abbiamo sviluppato un'iniziativa che coinvolge una trentina di band emergenti del territorio, e che costellerà la città con corner musicali tutti i venerdì del mese. Quindi in parallelo avremo delle esibizioni di band, specialmente rivolte al mondo giovanile, che aglietteranno le serate di luglio. Una città come diciamo viva, attrattiva e capace di intrattenere i propri ospiti, che siano visitatori, che siano turisti, che siano i nostri cittadini. Per questo abbiamo presentato assieme una serie di eventi di vario tipo e di varia tipologia che si tengono nei mesi di giugno. Quindi una città in quale si possono avere momenti culturali, momenti di semplice relax, momenti di interesse, e tendiamo anche a valorizzare un po' il nostro patrimonio, in questo caso qua più l'autodromo perché c'è una manifestazione importante, ma anche un po' di rivivere la nostra storia con alcuni interventi sulla storia, ma anche con il tradizionale corteo storico, che quest'anno avrà come tema centrale la Rengaria. E per il resto tanti momenti che vanno bene a tutti, e speriamo che chi ci conosce ci apprezzi ancora di più, e chi non ci conosce sia attratto dalla nostra città, dalla nostra storia, dalla nostra realtà. Tanti eventi, dunque, ma non i fuochi d'artificio di San Giovanni. L'amministrazione ha deciso di farne a meno, per motivi economici e ambientali. Fabrizio Pagani sarà il sindaco di Nova Milanese anche per i prossimi cinque anni. Nell'unico turno di ballottaggio andato in scena in Brianza, il primo cittadino uscente, presentatosi con Partito Democratico, Vivere Nova, Nova Oggi e Domani e Cuora Sinistra per Nova, ha avuto la meglio con il 55% dei voti sulla candidata del centrodestra Elena Maggi. Siamo contenti, abbiamo fatto un ottimo risultato, una squadra coesa dei candidati capaci e competenti, e siamo contenti che la cittadinanza ha capito quanto siamo stati davvero sul pezzo in questi cinque anni, quanto impegno ci abbiamo messo, quanto lavoro abbiamo fatto, quanta gente abbiamo incontrato, quanta gente abbiamo visto e il nostro lavoro è stato premiato. Dopo aver sfiorato il successo già due settimane fa per qualche decina di voti, Pagani è riuscito dunque a ripetersi anche al secondo turno, confermando ancora una volta il centro-sinistra alla guida di Nova Milanese. Sicuramente il nostro programma è molto completo e chiaro, sicuramente andremo avanti con i lavori di Piazza Gioia che dovranno essere terminati in questo mandato, dovrà essere finita anche quella che è il parco e poi ci dedicheremo alla manutenzione straordinaria delle nostre strade, anzi approfitto per dirlo che erano già previsti, ma al mese di giugno ci saranno già delle asfaltature che erano previste prima della fine del mandato e sono andatevate un po' più lunghe, soprattutto sarà l'attenzione alle persone che è il nostro motivo davvero di orgoglio, l'attenzione alle persone che ne hanno bisogno e noi in quello ci auguriamo di esserci e di non lasciare indietro nessuno. È stata una domenica di festa a Giussano in occasione dei 50 anni del Comitato Laghetto e dalla consacrazione della Chiesa di San Francesco. Mezzo secolo celebrato con tante iniziative, dalle esibizioni dei bambini agli stand delle realtà associative del territorio e con attività dedicate più piccoli, passando per una mostra tema fino a un momento simbolico come la cerimonia dell'annullo postale dedicato al Comitato Laghetto. Il Comitato si è sempre occupato di quello che è l'associazionismo, con particolare attenzione agli anziani, ma soprattutto non ci siamo dimenticati anche dei giovani. In fianco a me abbiamo il presidente Galbiati Gian Mario, Jimmy per gli amici e poi abbiamo questa validissima ragazza Sara che ha contribuito alla costruzione del nuovo sito del Comune Giussano che vi invitiamo a visitare. Troverete un po' tutta la storia fin dalle prime giornate di costituzione del Comitato Laghetto fino ad oggi, troverete tutte le manifestazioni che sono fatte durante il corso dell'anno e soprattutto, cosa particolare, la storia di tutte le cascine presenti nella zona del Laghetto. Un'occasione anche per le istituzioni, dal sindaco Marco Citterio al presidente del Consiglio regionale Lombardo, Federico Romani, per ricordare l'importanza della vivace attività che il Comitato Laghetto svolge da sempre sul territorio. Fondamentale è la nostra presenza qui oggi, tra l'altro abbiamo ospitato recentemente il Comitato Laghetto per la presentazione del nuovo sito realizzato da ragazzi, giovani. Quindi il Comitato guarda anche i giovani, si consolida e guarda il futuro. Stiamo progettando dei marciapiedi per mettere il percorso in sicurezza delle vie appunto della zona Laghetto. Con Regione Lombardia stiamo facendo degli interventi a livello ambientale, di recupero ambientale e li stiamo calando proprio adesso sul territorio per la conservazione di quest'area che è così bella anche sotto il profilo naturalistico. Una realtà che Regione Lombardia ha contribuito a dare nuovo lustro dato che grazie a un finanziamento della Regione sono stati rifatti i sentieri e anche l'immobile dove oggi è possibile trascorrere giornate. Quindi noi siamo sempre al fianco di chi ha voglia di mettere a posto la propria città, la propria comunità e anche per chi fa volontariato e chi aiuta i propri cittadini a passare le giornate con spensieratezza e felicità. Per la prima volta nei loro 25 anni di storia i granchi del nuoto club Monza si sono conquistati in una piagrande sold out e in delirio. La finalissima per la promozione è in serie A2 grazie alla vittoria in gara 2 contro l'Erici per 13-6 recuperando i due gol di scarto subiti all'andata. I monzesi in calottina dovranno vedersela ora al meglio delle tre partite con i temibili toscani di Marina Carrara che hanno eliminato a loro volta in semifinale i genovesi della Locatelli e che, come i ragazzi di coach Stefano Ingegneri giungono per la prima volta allo spareggio per la A2. Prima gara mercoledì 31 maggio alle 20.30 a Lavagna ritorno sabato 3 giugno a Monza alle 19.15 ed eventuale gara 3 mercoledì 7 giugno ancora in Liguria. L'appello del nuoto club Monza è già diventato virale. Sabato 3 giugno la gradinata della Pia Grande dovrà nuovamente colorarsi e ribollire di tifo bianco-rosso. I granchi e i reduci da sette anni di Serie B si avviano concentratissimi alla finale con l'obiettivo di centrare un traguardo tanto inatteso quanto storico festeggiato con una commovente foto di gruppo sotto l'immagine di Diego Tisiot l'allenatore bianco-rosso mancato due anni fa questa finale ce la siamo conquistata meritatamente ora daremo il tutto per tutto conosciamo il valore dei nostri avversari ma la squadra ha dimostrato riconoscere e saper sfruttare tutte le proprie potenzialità commenta il tecnico a bordo vasca Stefano Ingegneri e in caso di promozione che succederà a Monza? abbiamo sicuramente un impianto natatorio all'altezza della Serie A e tra i più belli della Lombardia e ora sarà ulteriormente migliorato rimesso a norme reso meno energivoro grazie ai lavori previsti dal comune per circa 3 milioni di euro spiega il presidente Franco Fossati le opere andranno presto in gara dal punto di vista sportivo sappiamo che in un eventuale A2 squadra e società non potranno reggere sull'impegno di giocatori volontari e che le spese li eviteranno a partire dai costi per le trasferte saremo felici di porci questo problema un minuto dopo la finale il nostro telegiornale termina qui vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social sul sito teleunica.com e su teleunica.tv dove potete rivedere anche tutti i nostri programmi buon proseguimento a tutti i nostri programmi